Le hanno provate davvero tutte, persino simulando violentissimi attacchi di tosse, pur di non sottoporsi all'alcol test. Sono gli automobilisti altici fermati sabato notte dalla Polstrada nel corso dei controlli straordinari lungo la Postumia, San Biagio di Callalta e la Ponte Bana, Ponte dell'Apriula. Complessivamente sono state controllate 120 auto e 135 persone, 6 le sanzioni. Un conducente è stato punito con la sola sanzione amministrativa perché aveva un'alterazione minima, mentre gli altri 5 sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. 10 gli automobilisti sottoposti a controllo con precursore di droga, 3 sono risultati positivi, 1 ai cannabinoidi, altri 2 ad anfetamine. Gli ulteriori test medici non hanno fortunatamente evidenziato uno stato di alterazione alla guida. La conferma dei risultati del precursore non è comunque priva di conseguenze, visto che gli automobilisti verranno segnalati alla motorizzazione e alla prefettura per la revisione della patente e gli opportuni protocolli sociosanitari. Oltre alla guida in stato di ebrezza sono state riscontrate anche altre violazioni, tra le quali il mancato obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri, 12 le multe combinate e la mancata revisione del veicolo. Tra le auto fermate anche una vettura omologata per 5 persone che a bordo ne aveva ben 7. Il conducente è stato multato per sovranumero di passeggeri ed i due passeggeri in più a loro volta sono stati contravvenzionati per mancato uso delle cinture.